Crescono gli aderenti al patto dei sindaci, è un'iniziativa di successo, due progetti europei molto importanti. Sì, due progetti molto importanti su cui riteniamo che si debba raggiungere il massimo nella collaborazione soprattutto con le amministrazioni locali e quindi è giusto l'aumento del numero dei sindaci che aderiscono al patto, anche e soprattutto dopo l'approvazione del PER regionale che abbiamo approvato a fine anno, io credo che questi due progetti siano un passaggio importante ed ulteriore per andare verso l'applicazione di quel PER che ci ha visto impegnati nei mesi scorsi e che riteniamo sia un atto programmatico molto importante per la regione.